Ciao Massimo, ciao Franco, ciao Delio, ciao al popolo bianconero. Dopo una bellissima prestazione di domenica scorsa sul Sassuolo, ci rituffiamo finalmente in campionato. A Firenze, Fiorentina Juventus, due squadre rivali del calcio italiano, una partita difficilissima. Ma dobbiamo assolutamente vincere, prendere tre punti per poi sperare in un passo falso del Napoli. Comunque, pensiamo a noi stessi perché sono convinto che faremo una grande prestazione. Non è facile, lo sappiamo benissimo, perché in casa loro giocano molto molto bene. Lo scorso anno abbiamo perso 2-1, quest'anno speriamo che sia viceversa. È una squadra che ha dei buonissimi giocatori, Chiesa e Simeone sono due giocatori da tenere d'occhio, però mi fido della difesa bianconera perché siamo la seconda miglior difesa a un gol in meno al Napoli e siamo il migliore attacco del campionato. Per cui sono fiducioso e quindi speriamo di vincere, speriamo di vincere. Bene, ora detto questo, sempre fino alla fine Forza Juventus, il pianeta e il bianconero. Vamos Juve! Ciao Marcello!